Professor Pio Conti. Ma dobbiamo avere ancora paura del coronavirus? Io credo di sì, credo di sì. Se non vengono rispettate le misure di sicurezza, le mascherine... Abbiamo visto che cosa è successo nei paesi che non hanno messo le mascherine e che non hanno rispettato le distanze di sicurezza. Abbiamo visto. Quindi prendendo le dovute precauzioni, sicuramente noi avremo meno da temere rispetto ad altre circostanze, altre popolazioni. Quando tempo dovremo aspettare prima di arrivare al vaccino? Il vaccino io non vorrei pronunciarmi perché sono abbastanza pessimista. Non credo che il vaccino arrivi presto, anche se i fondi che vengono stanziati in questa circostanza sono tantissimi. e quindi è possibile che questo acceleri la ricerca mondiale. Però c'è da dire che sull'RNA virus non sono stati mai fatti i vaccini, c'è da dire che è molto difficile farli e poi c'è una lunga attesa dopo aver fatto il vaccino, una lunga sperimentazione, un follow-up molto importante perché se il vaccino non viene fatto come si deve rischiamo di infettare tutta la popolazione.